Ciao a tutti, sono Tom e te? Chris Rega abbiamo trovato, comunque rega è un short Abbiamo trovato questa funvia Abbandonata Ho paura perché C'è andata prima Cristina E ci sono i lidi di veste Ma lassù, lassù Poi dentro Non penso Credo anche dentro Comunque all'interno si presenta così E noi vi salutiamo Ciao Ciao